L'economia comportamentale è un ramo dell'economia che studia come le persone prendono decisioni economiche e come i loro comportamenti possono deviare dalla razionalità economica tradizionale. Si basa sull'idea che gli individui siano influenzati da fattori psicologici, sociali e cognitivi nella loro scelta economica. L'economia comportamentale prende in considerazione i processi mentali degli individui, come la percezione, l'emozione, la motivazione e la cognizione, e come questi influenzano le decisioni economiche. Ad esempio, gli individui possono essere influenzati da bias cognitivi, come l'effetto di ancoraggio, tendenza a fare stime basate su informazioni iniziali, o l'effetto di endowment, sovrastima del valore di ciò che si possiede. Inoltre, l'economia comportamentale studia anche le influenze sociali sul comportamento economico, come l'effetto di conformità, tendenza a seguire le decisioni degli altri, o l'effetto di status quo, tendenza a rimanere nella situazione attuale. Questi fattori sociali possono influenzare le scelte individuali e portare a risultati economici diversi da quelli previsti dalla teoria economica tradizionale. L'economia comportamentale ha importanti implicazioni pratiche, ad esempio nella progettazione di politiche pubbliche. Comprendere come le persone prendono decisioni economiche e quali fattori influenzano il loro comportamento, può aiutare a sviluppare politiche più efficaci, che tengano conto delle scelte irrazionali o influenzate da bias cognitivi. Ad esempio, può essere utile utilizzare strategie di inaging per indurre le persone a fare scelte che siano nell'interesse comune, come l'adesione a programmi di risparmio o l'adozione di comportamenti sostenibili. In sintesi, l'economia comportamentale è lo studio di come le persone prendono decisioni economiche in modo non sempre razionale, considerando fattori psicologici, sociali e cognitivi. Questo campo di ricerca ha importanti implicazioni teoriche e pratiche per comprendere e migliorare il comportamento economico delle persone.